Monica Canalis, oggi consigliera regionale, è stata, quando era in Consiglio metropolitano, l'ideatrice della mozione per la lingua dei segni. Sì, grazie. Nel 2018 abbiamo portato avanti questa proposta nel Consiglio metropolitano per riconoscere anche da parte dell'istituzione città metropolitana la lingua dei segni italiana, cosiddetta LIS, che è un patrimonio non soltanto linguistico, universalmente riconosciuto, ma anche un patrimonio culturale che consente a molte persone sorde di avere uno strumento in più di comunicazione. Quindi è stato molto bello che, tra l'altro, questo riconoscimento sia avvenuto in maniera trasversale con un'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio metropolitano. Segno che questo ente vuole davvero essere vicino alle persone che hanno disabilità per favorire la loro integrazione e la loro inclusione sociale.